L'idea del 2013 del consigliere Pori ha quasi realtà. Sì, grazie a un'associazione sportiva che ha preso in gestione la pista di pattinaggio. Finalmente si sta realizzando il primo skate park pubblico a Perugia. Ora parte il crowdfunding, cioè la raccolta fondi per poter realizzare le strutture. Le premesse ci sono tutte per il primo skate park a Pian di Massiano che l'associazione Sierra Action Park e Strip Talconi intende realizzare da qui a qualche mese. 2000 euro mancano ancora per l'acquisto delle strutture e le rampe chiamate pipe e half pipe che permetteranno agli skaters e a coloro che praticano BMX e pattinaggio estremo di poter eseguire tutte le possibili evoluzioni. Presso il via questo weekend l'evento nell'area antistante la pista di pattinaggio per promuovere la raccolta fondi sulla piattaforma Eppela. Lezioni di skateboard più piccoli. Rapper, DJ e live music, esibizioni di freestyle e writer impegnate a dare nuova vita alle strutture esistenti per una non-stop del Sierra Park crowdfunding day. Mancano ancora 37 giorni per finanziare il primo skate park a Perugia sulla piattaforma Eppela e contribuire alla nascita di un nuovo luogo in città www.eppela.com.sierrapark. Un'altra parte di 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 un